Ben ritrovati gentili amici con il consueto appuntamento con l'informazione genovese da parte di Imperia TV. Partiamo subito dall'allerta meteo perché il grado è avanzato a quello rosso infatti meteo da brivido è fiato sospeso a Genova dove il vento ha soffiato a più di 100 km orari sin dalle prime luci dell'alba dove importanti fenomeni temporaleschi hanno raggiunto la costa provocando rovesci. Chiuse tutte le scuole e le università annullate le manifestazioni all'aperto sospesi i mercati rionali, chiusi i parchi, i cimiteri e sono a rischio, sgombero molte abitazioni in tutto il genovesato. Si tratta di un vero e proprio coprifuoco quello che fino alla mezzanotte di oggi terrà con il fiato sospeso tutta la città. Passiamo adesso alle scuole perché due dei più importanti istituti genovesi sono ancora senza professori, cate delle scoperte infatti al liceo Cassini e al liceo Da Vinci, supplenti a tempo determinato e grosse difficoltà nell'assegnazione in un ottobre critico a un mese dall'inizio dell'anno scolastico. Passiamo adesso allo sport perché in casa Genoa Pavoletti accelera i tempi in vista del derby. L'attaccante di Livorno ha scambiato più di qualche passaggio e sta facendo di tutto per riprendersi il prima possibile e farsi trovare pronto da mister Iuric per rientrare in occasione della stracittadina genovese. Passando invece alla Sampdoria, domani i blucerchiati giocheranno a Pescara e la partita è certamente di quelle da non sbagliare. Giampaolo è stato messo in discussione dal presidente Ferrero già durante tutta la settimana anche prima della sosta per la nazionale. Altro motivo in più per evidenziare quanto la gara sia di fondamentale importanza in casa Sampdoria. Dalla redazione genovese di Imperia TV e da Matteo Sacco, la più cordiale. Buona giornata.